Pro Ruttori schieramento che si è completato tutto pronto con favorito No Beads Like This Beads Legittimo favorito aggiungerei dopo il rientro positivo Si aprono le gabbie, partiti i cavalli della seconda corsa Parte bene Dickman, parte bene anche Charlotte Comet Poi in terza posizione la giuba gialla a palle rosse è quella del favorito No Beads Like This Beads In quarta corsia troviamo anche Kruppi The Best Per cedere documentario Lettio Brevis e a chiudere il gruppo Punzo Prima parte di gara affrontata in maniera cauta da parte di tutti i concorrenti In vantaggio ci si ritrova la grigia Charlotte Comet Assecondata all'esterno da Kruppi The Best In terza posizione all'interno c'è Dickman in quarta C'è il favorito No Beads Like This Beads Poi documentario Lettio Brevis e Punzo a seguire Prima parte che è scivolata via così piuttosto tranquillamente Posizioni che si sono assestate Charlotte Comet è in vantaggio adesso Con un paio di lunghezze di margine nei confronti di Kruppi The Best Poi ancora No Beads Like This Beads Dickman con la giuba bianca a quadri verdi e cap rosso Documentario Lettio Brevis e Punzo Il gruppo si è sgranato quando siamo a metà della retta opposta L'andatura che si è leggermente sveltita Ma non è cambiato nulla dal punto di vista delle posizioni Allora Charlotte Comet è davanti nei confronti di Kruppi The Best Che è in seconda posizione lungo lo steccato con al suo esterno No Beads Like This Beads Poi un terzetto formato dall'interno verso l'esterno da Lettio Brevis e Dickman Ancora documentario e Punzo a chiudere Sta respirando Charlotte Comet ma è comunque ancora davanti Allora questo momento permette agli altri di farsi un pochino più sotto Tant'è che il gruppo si è compattato ulteriormente Sempre Charlotte Comet assecondata all'interno da Kruppi The Best No Beads Like This Beads Poi Lettio Brevis, Dickman, documentario e questi sei che lasciano in coda Punzo Con i cavalli che sono quasi all'ingresso e addirittura d'arrivo Damiano Poggi che si guarda all'interno perché c'è Kruppi The Best Al suo esterno subito si presenta il favorito No Beads Like This Beads Che cerca il lungo anticipo Dickman dietro di lui Poi più all'esterno c'è documentario All'interno ci va anche Lectio Brevis con circa 400 metri da percorrere Charlotte Comet è un leggero vantaggio nei confronti Lectio Brevis all'esterno c'è No Beads Like This Beads All'interno ancora vitale lo stesso Kruppi The Best Ci prova Dickman, ci prova documentario Ma No Beads Like This Beads ha dato uno strappo E ha preso una lunghezza e mezzo di margine Passando definitivamente in vantaggio A 150 al palo cerca di staccarsi definitivamente dalla compagnia Ci prova Kruppi The Best, ci prova Charlotte Comet Ma ormai è tutto fatto Ben sicuri No Beads Like This Beads Che vince nei confronti di Kruppi The Best E al terzo Charlotte Comet Tre al primo posto, quattro al secondo E poi uno al terzo Tre, quattro, uno È un ordine d'arrivo ufficioso provvisorio Della seconda corsa In sella No Beads Like This Beads C'era Leonardo Forlini Il training è quello di Ivano Bugatella I colori sono quelli di Giuliano Botti Tre al primo posto La quota al tot era di 2,08 Kruppi The Best al secondo Al terzo appunto Charlotte Comet 341 E da Capanelle Per la seconda è tutto 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 Per la seconda è tutto